Eccoci qua, siamo collegati con ancora tre opinionisti della nostra trasmissione, non potevano mancare loro che hanno supportato questa... Poi in collegamento, sommerso dalle dive, ed è lui il ritrattista delle dive, il nostro Daniele Pacchiarotti. Come sai Dani? Grazie, scusate l'assembramento, siamo un po' intanto. Ma in questo periodo è vietato fare assembramenti, eh? Però ho detto a loro di, insomma, di stare calmi e zitte soprattutto. Allora, è un piacere ritrovarti. Daniele Pacchiarotti, vede, vicino a te una new entry, che questa volta è un uomo. Tu parli di... allora, lo ha portato, te lo volevo mostrare, perché proprio in questo periodo, insomma, in cui abbiamo sofferto molto, insomma, per isolarmi, ho pensato a un suo grande messaggio. Il grande staglio. Che è stato, show must go on. Nel senso che, ok, con precauzione facciamo tutto, non facciamo assembramenti, cerchiamo di... con tutte le precauzioni possibili e immaginabili, però lo spettacolo, in questo senso, anche lo spettacolo stesso, l'arte e la vita, deve continuare. Perché penso che, insomma, l'Italia in particolare è la città dell'arte, è la città, insomma, della bella vita, no? Quindi, io penso che siamo stati, comunque, colpiti veramente in fondo, abbiamo sofferto tanto tutti quanti e ci meritiamo una grande ripartita. Non solo noi artisti, ma ovviamente tutti i cittadini, tutti gli italiani. Ecco, questo era il mio messaggio. Sono d'accordo con te. Vedo Cristina D'Avena. Sì, questo è un... so che tu conosci molti i miei quadri, però non te l'avevo mai portato in trasmissione. Portai a Cristina questo quadro che la ritrae nel CD Duets, che invece le canzoni... Sai, lei ci ricorda molto la nostra infanzia e io sono cresciuto con lei, quindi quando io l'ho portato sul palco, piangevo io, ma si è commossa anche lei. E l'ho ringraziata davanti a tutto il pubblico per avermi proprio insegnato anche, attraverso i cartoni animati, proprio alcune storie di vita importanti, no? Beh, vabbè, ma tutte le persone che ti conoscono, io in primis, sanno che te metti l'anima nelle tue opere, no? Assolutamente. In questi casi, cioè, metti veramente l'anima, dietro a te vedo Valeria Meire. Che è comunque una... L'hai distratta fino ad andare a Adobe qui, in questo caso, quindi proprio l'anima... Esatto, sì. Ho scelto una foto di Valeria che anche qui, beh, sono tutte fotografate in momenti diversi, ovviamente. Mi scrive, Dani, sei stellare, numero uno al mondo, baci stellari. Io... Eh, ci credo che l'anima si può essere impediabile, quindi chiaramente ti doveva soltanto ringraziare, insomma, dai. Beh, anche lei è stata molto, molto contenta, poi è un'amica, insomma, da tanto tempo. Da sempre, da sempre. Allora, tornerò da te perché voglio chiedere quali sono i prossimi personaggi che ritrarrai durante l'estate. Sì, ce l'ho. Daniele Pacchierotti, allora, in questa estate un po' anomala del 2020, che ci vedrà un po' spossati, diciamo così, qual è il prossimo VIP che ritrarrai? Ovviamente, Carlo, come sai, io ritracco tutti, non è che ritracco soltanto VIP, sarebbe limitante, insomma, poco importante alla fine. Perché il drago, la diva che in ognuno di noi. Però, un bel, a parte ti ho fatto vedere già Carmen Russo, che ti salutava appunto, e Carmen Di Pietro. Hanno gradito tantissimo, ma la prossima sarà Manuela Arcuri. Manuela Arcuri, bellissimo. È una bellissima sfida per me, perché è sempre stata una gran donna che apprezzo, molto bella. E adesso che è diventata mamma, è diventata, secondo me, anche più bella, molto più affascinata. È vero, e quindi sono pronto a… perché per me ogni volta è una sfida. Assolutamente. Senti, Daniele, ricordiamo i tuoi profili, per favore, così chiunque vuole avere informazione. Daniele Pacchiarotti, sia su Instagram che su Facebook, il ritrattista delle dive, sia su Facebook che su Instagram, e il mio blog è danielepacchiarotti.blogspot.com Grazie veramente a tutti, buona estate, e mi raccomando, divertitevi. Grazie Carlo, ciao a tutti, ciao, buon lavoro, ciao.